Notizia proveniente direttamente dalla Germania, Sadio Mane sarà il nuovo attaccante della Juventus? Per avviare il video, premi il pulsante il mi piace e successivamente il pulsante iscriviti. Fatto ciò, inizieremo. A causa del fallimento nel non raggiungere un posto in Champions League, Dusan Vlaovic potrebbe lasciare la Juventus. Quasi tutti i grandi club d'Europa sono interessati all'attaccante della Juventus. Anche il Bayern Monaco è interessato a Dusan, poiché il club tedesco sta ancora cercando un nome in grado di sostituire Robert Lewandowski. Il Bayern Monaco sa che il prezzo che la Juventus considera per liberare Dusan è di 80 milioni. Pertanto, il Bayern Monaco sta preparando una proposta per la dirigenza della Juventus con l'intenzione di ridurre il prezzo. Il Bayern Monaco vuole offrire Sadio Mane in cambio di Dusan Vlaovic. Mane ha 31 anni e il suo prezzo è di 45 milioni di euro. Il senegalese ha segnato un totale di 12 gol con il Bayern. Scambieresti Dusan Vlaovic con Sadio Mane? Qual è la tua opinione?